Iniziativa di promozione all'hotel Esplanade di Viareggio da parte del comune di Reggello insieme all'associazione Città dell'Oleo per promuovere l'olio di Reggello, per farlo conoscere sempre di più in modo particolare ai ristoratori. Per promuovere il prodotto direttamente con le categorie economiche. Noi crediamo molto che questo connubio tra i produttori e i consumatori passi inevitabilmente attraverso il mondo della ristorazione che è il primo baluardo per poter far apprezzare quella che è un'eccellenza apprezzata in tutto il mondo, l'olio extravergine oliva toscana. L'iniziativa di promozione del nostro olio è venuta a farlo conoscere in Versilia, al ristoratore della Versilia, perché Reggello è un comune ad alta vocazione olivicola, abbiamo tantissime aziende. Iniziativa accolta favorevolmente dai produttori. Queste iniziative sono molto importanti perché promuovono il terreno di Reggello e l'olio di Reggello che è molto particolare e sano. L'importanza di questo prodotto che non va visto solo come un prodotto da consumare a tavola ma per la qualità in sé anche salutare. È un prodotto che lo devi far assaggiare in qualche modo, quindi secondo me è qua l'occasione migliore che ritrovarsi appunto in location come queste per farlo poi assaggiare a chi poi lo dovrà utilizzare in cucina. Soddisfazione per la scelta di Viareggio viene espressa dall'assessore Alessandro Meciani e dall'amministratore dell'hotel Esplanade Francesco Beciani. Siamo particolarmente contenti e soddisfatti che la città dell'olio, il comune di Reggello, abbia scelto Viareggio come vetrina promozionale delle proprie eccellenze e delle proprie attività agricole. È una grande soddisfazione perché qui a Viareggio almeno possiamo presentare la qualità dell'olio nel territorio social.